Nei giorni scorsi due navi delle ONG, Humanity 1 e Geo Barents, con a bordo i migranti sono arrivati qui al porto di Catania, sono ancora ormeggiate. Il governo ha dato l'ok per far scendere le persone fragili, le donne ma anche i bambini, mentre al loro interno restano ancora in buono stato di salute, ma comunque in condizioni precarie perché sempre all'interno di uno spazio ristretto come quello che può essere una nave, gli uomini, appunto, come detto, in buono stato di salute. 35 migranti si trovano a bordo della Humanity 1 ancora e sulla Geo Barents invece sono oltre 200 in Africa ancora a bordo. Gli stati devono farsi carico delle navi che portano la loro bandiera, è quello che il governo italiano sottolinea e ribadisce. In particolare si rivolge allo stato tedesco, alla Germania e alla Norvegia perché sulla ONG Human 1 batte bandiera tedesca, mentre sull'altra la Geo Barents, quella norvegese. A largo delle coste catanesi ci sono altre due ONG cariche di migranti. Intanto al porto di Catania monta la protesta con Sinistra Italiana che chiede la liberazione di questi migranti ancora sulle navi e che venga rispettato il loro diritto e venga riconosciuta la loro libertà. Abbiamo sentito Pierpaolo Montalto di Sinistra Italiana. La situazione è drammatica, la situazione è che ci sono circa 30 persone, qualcosa in più qua su questa nave, di più, siamo parlando di un paio di centinaia dall'altra parte. Abbiamo un governo che è incapace di rispettare non solo le regole di umanità, che era sempre dimostrato di non terne conto, ma di un governo che non rispetta neanche il diritto internazionale. La gente che si trova su queste navi avrebbe il diritto di poter scendere in quanto naufrago, per il diritto internazionale e anche per quelle che sono le regole del mare, avrebbe il diritto di scendere perché sono vietati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo i rispingimenti collettivi, quindi avrebbe il diritto di scendere e fare richiesta di protezione umanitaria o di diritto d'asilo. E' una condizione disperata perché la condizione sulla nave di queste donne, di questi uomini è drammatica. E' drammatica perché chi ha fatto un viaggio così disperato, un viaggio tremendo, un viaggio pieno di sofferenze, ovviamente in questo momento è di per sé un soggetto fragile. Noi non capiamo come il governo abbia dato indicazioni di distinguere tra chi è fragile e chi no e come fai. Chi è che non è fragile in questa condizione drammatica e chi è? Saremo in presidio permanente fino a quando tutti e tutti non scenderanno. Ricordo che il governo non deve autorizzare niente, stiamo parlando di gente salvata in mare, che deve arrivare nel porto più sicuro per il diritto internazionale, non dovevano autorizzare niente. Pensano di tenersi questa gente come se fosse un giocattolo propagandistico per fare la loro sceneggiata mediatica. Non funziona, ci sono donne e uomini veri, ci sono bambini, c'è gente che soffre, ci sono famiglie che sono state divise, e c'è chi sta vivendo momenti drammatici su questa nave dopo averli già vissuti. Intanto SOS Humanity fa sapere che ricorrerà al TAR del Lazio contro i provvedimenti del governo. Respingere i rifugiati al confine italiano viola la convenzione di Ginevra, dicono. I ricorsi al TAR che stanno presentando, ovviamente i legali dell'associazione, i legali che fanno amministrativa, sono ricorsi volte innanzitutto a superare quello che è l'ordine di allontanamento dal porto di Catania e quindi il governo italiano dovrebbe imporre all'associazione di allontanarsi dal porto e tornare in acqua internazionali. Ovviamente non lo possono fare perché sarebbe quello illegittimo e noi ci troviamo di fronte ad un ordine legittimo del governo. L'impugnazione al TAR serve di dare un po' di credibilità giuridica nella vicenda che è assolutamente paradossale.